Hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Roghi01 e oggi ci chiamo su Pokemon Spada Nello scorso episodio abbiamo affrontato il Bosco Brilabirinto e abbiamo, innanzitutto abbiamo compratto la nostra squadra Adesso c'è Morgham che se no mi sa, no non è salito di me ma sta per salire E poi abbiamo trovato dove 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 lui Oggi il nostro primo shiny di questo gioco è mio in assoluto trovato nell'erba senza un senso E oggi prima di andare nella palestra di tipo folletto se non mi sbaglio Dobbiamo fare una cosa, cioè dopare il nostro Morgham Perché io questi giochi come vi ho spiegato ho fatto un botto di Ehm come dove dove qui Sì dovrebbe essere qui Ho fatto un botto di raid E in questi raid ti danno le caramelle Infatti dobbiamo far diventare anche lui diabetico E le dobbiamo dare una 15 Facciamo 16 e passa la paura E Congiura? Non mi ricordo cosa fa E allora vediamo Chi ha la uso stimola del cervello Pensata a cose cattive Aumenta di molto l'attacco speciale Potrebbe andare bene Attaccati che cosa faceva? Faceva attaccare solo con una... Se no lo faceva utilizzare sempre una mossa Bullo Aumenta di attacco però con foda Beh Però adesso mettiamo con giuro che è una mossa buona In caso di... Siamo in caos Carineria Sì È stabbata Però volevo togliere Attaccarite dai E quindi adesso Visto che è a livello 46 Il nostro Morgrem si dovrebbe evolvere Perché lui si evolve a livello 42 E quindi adesso le statistiche aumentano ancora di più Diventano una belva umana E se Poppy Io ancora non sono sicuro se è tipo Psico O Folletto Se è tipo Folletto Ce la facciamo con Toctricity Con Velenonda Se è tipo Psico Lui Nero pulso E via Impara un'altra mossa Frantumanima Che è tipo Buio No Anche questa è tipo Folletto Fisica Ma A questo punto la tolgo Forse toglierei Sbigattacco Sbigattacco Fa 70 Solo Mi ricordavo che faceva 120 Forse su Let's Go Faceva 120 Quindi togliamo Perché questa fa 70 Fisica Ma Al 100% di precisione Carineria 90 90 Che E' buono Anche perché lui E' un attaccante Fisico Speciale L'ho detto prima Ma già mi sono scordato Perché sono Un ragazzo Molto stupido E queste cose Non le nota subito E' un attaccante Fisico Quindi top Qui Aggiustiamo un pochino Le mosse Mettiamo Carineria qua Questo qui Ok Casi estremi Utilizzeremo Aspetta Non mi ricordo Se ho dato la conchinella No Perché dobbiamo dare Anche strumenti E i pokemon Non servono A niente Strumenti Che ci danno Conchinella Lui E ho dato A A Colossa Gli avanzi Che ho trovato Nelle terre selvagge E ora Possiamo Finalmente Andare Verso La palestra Di pop Però Sono Stupido Dobbiamo mettere Toxtricity Come primo pokemon Anche se Se la poteva fare Anche lui Da sola Anche se Morpico Vedi Anche Morpico Ti tiene d'occhio Invece In verità E carico Coloso Non mi fa Prendere Di solito Le persone Che Prendono d'occhio Le altre persone Vedono Con tono Minaccioso Invece Lui E carico Coloso Che Aspetta Un attimo Morpico Non vale Mica Dirmi Che ti sta Simpatico Infatti Ma insomma Guarda che E' uno sfida palestra Anche lui E quindi E' un nostro avversario Uff Ma è una gioia Frasi tipica Di ogni adolescente In questo periodo In questi Gli ultimi anni Mi toccherà Darti la mia Card della Lega Pokemon Così Il mio Pokemon Ti ammira Ecco la mia Card E va bene Visto che Non sono Molti Gli sfidanti Arrivati fin qui Dovrei poi Ti considero Ero Uff 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 Grazie Ci vediamo In finale Uomo avvisato Mezzo salvato No la finisci L'ho finita io E qui C'è il nostro Boys Che ci darà La Pokemon Speciale La Love Ball E se vedo Una farfalla Lì in fondo Dovrebbe essere Folletto Quindi mi ricordavo Bene Beh allora Ti prego di andare A indossare Ok E spero che Non serva L'analogico Anche in questo Caso Perché Io picchio Qualcuno Mi dissocio Ovviamente Dai Qui c'è Questa Che Questa animazione Lentissima Speriamo Che Riusciamo a sconfiggere Tutti allenatori In modo easy Anche perché Siamo Nei vicoli Vicoli Dove fanno Più più Sciuti Sciuti Le persone Dove sparano Ovviamente Eppure Dietro un set Se non mi sbaglio Boh Oh Ecco qui Un altro Svidare Ecco qui Un altro Triste allenatore Che ha bisogno Di una Po' di rosa Nella vita La Rosa Veniamo Va bene Veniamo ora Alla nostra Missioncina Dunque Dico Missione Ma si tratta Anche di una Sorte di provino Per il mio Eventuale Successore Niente di che Una cosa Facilina Facilina Dovrai solo Rispondere Alle domande Che ti faranno Le allineatrici Che affronterai Attenzione però Se sbaglierai Le statistiche Del poco In campo Diminuiranno Ah Se invece Risponderai Correttamente Le tue statistiche Le sue statistiche Aumenteranno E il potere magico Ed è poco Di tipo folletto Ok Grazie che mi confermi Che è tipo folletto La tua palestra Bene Io vado a prendere posto Sono curioso Di vedere come te la cavi Quando fai sul serio Io pensavo fosse Come Blaine Che rispondendo male Ti danno Ti fanno fare Gli allenatori No in questo caso No In questo caso no Comincia la missione Ok Infatti Quando ho giocato Su Let's Go Lo sbagliate tutte Le domande Anche le più facili Perché volevo Allenare i miei Pokémon Dunque Dunque Vediamo se Abbiamo qui Qualcuno degno Di diventare Capo palestra Di tipo folletto A inizio Il provino Ok Lorella Allenatrice Palestra Hai una love ball Bella come fuoco Sprizzi Tu sei solo Folletto Volante Perché vedo Che sei in mezzo Uccello Fangonda Non Belenonda Signori di Game Freak Se volete creare Una mossa Che si chiama Velenonda Vuoi i diritti E come sempre Noi le palestre Washottiamo tutti E' bello Questa E' la Che palestra E' questa La sesta palestra E ancora ci Ah No Questo No Questa Finalmente Una Tutte e due Ma sono tutte e due Superficaci Ma sei stupido Ok Amenta Attacco Attacco Tu hai deciso La morte Quindi perché Tu sei tipo Folletto Full tipo Folletto Io sono tipo Belleno Mi potessi Poi le monse Speciali Sei un pochino Stupido Comunque Prima erano tutte e due Le domande Giuste Non potevi sbagliare Poi E di che è preciso 400 400 400 Trale Toc 3 Perché Ha E' abbattuto Lui Il pochino Giusto Sbagliato Ma erano tutte giuste Interessate Non so cosa ne penserà la signora Poppi Ma devo dire che a me Non dispiaci Ok Però Le domande Fatele un pochino Più complicate Qui Mi attacco Non diminuirà mai O le statistiche In generale Ciao Io sarò la tua prossima Avversaria Quindi fatti sotto Invece Non pensare più Alla domanda precedente Pezza sola Ad andare avanti Come non faccio pensare Mi avete dato Una risposta giusta Tutte e due Le risposte Ma Alda Swirlix Questa era Forma precedente Di quello che abbiamo Asfaltato Prima Ok Super efficace E L'abbiamo catturato Pure le ho due Perché questo Poco si evolve In modo strano Con lo scambio Se non mi sbaglio O con la felicità Forse che si sono Vettati Di che io odio Mamma mia Aromantis Quando volevo Quando ho voluto Completare Il Pokedex Il quinta Gen Mamma mia Per Aspetta Come si chiama L'allenatecce Di Pilar Rolella No Ok Ho smadonnato Per far evolvere Vubat Vubat Mamma mia Ecco Ovunque Per fortuna Ho letto il nome Che si ricordava Come si chiama L'allenatecce Io di solito Non li leggo Quindi Nice Per me Questa si chiama Ada Ok Abbiamo Asfaltato Anche Quest'altro Si Non ho letto Neanche Come ti chiedi Quindi Se mi chiedi Che infame Ecco perché Ha detto Scordati Della domanda precedente Perché Ci dovevo scordare Pure il nome Della Furbetta Ma chi l'ha detto Questa cosa Che Non siamo Bambini depressi Ragazza Donna Eccomi La prossima sfida Sarà conto di me Ho la sensazione Che tu abbia La stoffa Per diventare Il capo palese Di tipo folletto Ma non lo voglio Diventare tipo folletto Almeno Acqua Che è il mio Tipo preferito Morgrem Olga Questa si chiama Peccato che non c'è Il mio Pokémon Il mio Che ti asfalterà E invece In questo caso C'è Toctricity Pangonda Sopronominata Da me Belenonda Perché Basta Voglio Una petizione Che cambi Il nome Di questa Mossa È Belenonda Guard 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 Bello Come Poco Ma Questo È Psico Folletto Quindi Lo so Se In questo caso Cambiere E mettere Grimsnarle Perché Se lo bisogna Io fa Per uno In questo caso La nostra Tipo Buio Perché Il buio È super Efficace Contro Tipo Psico Però Folletto È super Efficace Contro Il tipo Il folletto È super Figace Contro Tipo Buio Cosa Mangio Ogni mattina Eh che Ne so Carry No La difesa È la difesa Speciale No Ma Quel Pokémon Ha All'attacco Speciale Nelle mani Magi Brillio E Per fortuna Siamo Mezzi Tipo Siamo Mezzi Tipo Folletto Noi Meno male Che l'ho Data La conchinella Voglio Cambiare Pokémon Ah Potevamo Mettere Lui Che ha Ho fatto I parametri A telstat Sempre Con le DT Io Tro Ogni tanto Vado Nelle Nella Boss E vede Le DT E le MN Fascino Dimmi L'attacco No Sì È di Molto Pure Però In questo caso Metà testata E ho visto Mettere testata Ottanta Fisico Che Si poteva imparare Corve Che fa Che Non te ne Privi E no E infatti Adesso Con metà testata Ha Washotato Signorino Guarda E adesso Dovremmo affrontare La signorina Poppy Credo Perché Di solito Le boss Fight Sono sempre Così Sempre Con tre Cuori Che Idea Sera Parate Quella Di Usare La Missione Per Selezza Lo Successore Scusa Non lo Faccio Più Io Potevo Affrontare Direttamente Poppy Se Non Voleate Fare Queste Domande E Ora Dove Dobbiamo Andare Abbiamo Finito Andiamo Allo Stadio Quindi Scusa Scusa Allora Rochie 01 Vuoi affrontare La capopalestra Sì Ottimo Procedi Dunque La capopalestra Ti aspetta Ok Andiamo Allo Stadio Siamo Tutti Vestiti Abbiamo Il polsino Dynamax E Un botto Di gente Che ci Aspetta Per affrontare La signorina Poppy Che Non è più Signorina Da tanto Tempo Beh Sicuramente Ha preso Suono Ma Ha preso Suono Ah no Sono Poppy La capopalestra Di questo Stadio Forse Avrei dovuto Presentarvi Prima Una E che Alla mia età Non ho più Pazienza Per i convenienti Bah Meglio tardi Che mai Dal mio posto Di osservazione Privilegiato Ho potuto Osservare Le tue reazioni Alle domande Ok Ti aspetto Ora L'ultimo esame Affrontare La prima torna Della compagnia E cioè Me Ok Va bene Ma io ti volevo Affrontare solo Per Avere la medaglia No per Prende il tuo lavoro Forse andrà in pensione Boh Vediamo se tu E i tuoi E i tuoi compagni No pokemon Delle avventure Siete all'altezza Del vostro volo Quindi Washotiavo Tutti i tuoi pokemon Sempre se non mi metti Un guard Sicuramente avrà Grimmsnarr Avrà la forma Gigamax No Dynamax Poppy Che ho palestra Wheezing Wheezing Che ci fa Quello Tipo Folletto Quello Quello La forma Galar E' tipo Buio Qualcosa Eeeh Fangonda E via Fra poco Finisce Finisco i pipì Ma Dobbiamo portare Tutti i pokemon Ok E il primo E' andato Ma Wild Tipo Acciaio Folletto Eh Ma Wild Continuo Altare Perché Potete usare Colosso Colaggia Fiamme Però Tipo Acciaio Potrebbe dare Bastidio Al mio Tipo Roccia Non mi Ricordo Dai Cambia poco Rischiavo Un pochino Perché Sempre Utilizzare Lo stesso Poco Come ho detto Sempre In questi Video Non è Bello Nella Scorsa Paressa Ho fatto Tutto Con Coronet Ma Questi Sono Dettagli Dai Però Mi piace Un pochino Rischiavo Anche Perché Siamo 20 Livelli Superiore Sono 10 Ma Questo Dettagli Anche Questo Dettagli Tecnici Domanda Ma No Sai Come Si Chiama La Gente No Strega Ho Biscliccato La Velocità Chi Se Ne Frega In Questo Caso Tanto Abbiamo La Velocità Già Bassissima Se Il Negozio Di Later Si Modificasse Ogni Giorn E Non Resterebbe Lo Stesso Io avrei Comprato Rapide Artigli Ma Non Mi Rimane Sempre Fango Pecce Posso Andare Tutti I giorni Che Volete Ma Intanto My Wild Ha fatto Ciao Perché Stupido Si è potenziato L'attacco Fisico La Difesa Fisica Tuo Geekis Questo Lo Potremmo Fare Si Con Tocticity Ma Con Overdrive Per Spare Un Po Di Peppi Di Fangonda Perché Togekiss È tipo Volante Psic Si Psy Folletto Ok Dai Togekiss Fate bene Questa Canzone Io lo Ti lo Sai Però Ogni Episodio Che C'è La Palestra Proprio Bello Ti Che 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 Un Pokémon Up Un Maggi Brillio Bam 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 O Forza Lunare Che Speciale Oh Quasi Tutti Poco Che Si Livellano Al Prossimo Round Hull Cream La A Torta Pokémon Torth Ok Aspetta Sai Perché In Te No Ah A Lui Gigamax Che Diventa La Super Mega Torta Della Vita Che Ci Facero Vedere Proprio Sì Da Una Corrosione Al Uno Dei Primi Trailer O Il Primo Proprio Il Primo Trailer Che Ci Facero Vede I Primi Poco Proprio Chissà Tanto Da Una Corrosione E Via Siamo Più Veloci Noi No Toc Tristi Livello 46 Lui È Livello 36 Come gli altri Per farti bene Caro mio Perché Adesso Iniziamo A fare Sul Serio 38 Perché Quello Più Forte Chi Ha Dai 10 Ecco La Supervega Da Torta Della Morte Che Mi Questo Poco Darà Cibo A Nazioni Nazioni Lo Faranno Vai Dino Dynamax E Mangia 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 Come un Porcellino E Non È Morto Che Cosa Ho Detta L'attacco Speciale Di Toc Tristi Oh Vi Vedo Un Po Accorta Di Rosa Ma Non Por Giga Ah Por È Una Mossa Gigamax Di Tipo Folletto Che Lagga Tantissimo Vi Dicono Nice Oh Dai Dai Che Ce La Fai Sperando Che Non Crash La Mia V Witch A Quanto FPS Sarà Andato La Mia Switch E Questi Ultimi 5 Secondo Manda Quale Il mio Colore Preferito Il Viola Lo Stavo Per Dire Certo Sei Una Brutta Persona Pop Poi Fina Poi Ti Dei Mettere Rose Tutte Le Parti Dico In Rose E Mi Dici Che Il Tuo Colore Preferito Il Viola E Mi 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 Perso Contro Di Me La Sconfitta E Invece Se Sono Senti Sotto Il Pokémon Mi Ha Dato Pochissimo Di XP Vai Corrette A livello 47 Sir Fece A livello 47 E Toc Trisity Quello Che Non Ha Fatto Alla Prima Palestra Che Ha Affrontato Lui Cioè Quella Con Azzurra In Questo Caso Ha Fatto Siedere A Tutti E Ha Vinto Soffrite Ancora Di Terribile Carezze Di Rosa Ma Siete Una Scuola Davvero In Gamba Sì Comunque Tu Bari Vedi Sei piena di Rosa Sei un pochino Viola Quindi Perché Viola Non è Il tuo Colore Preferito Boh Beh Direi Che Può Bastare Niente Male Devo Dire Tuttavia Sono Spiacente Di Comunicarti Che Non Hai Passato Il Provino E Chissere Non Debo Realizzarti Però E Merame E Meramente Forse Hanno Sbagliato A D E Veramente Boh E Meramente Una Questione Di Gusti Dovrò Cercare Qualcun Altro Che Possa Assupere Il ruolo Di Capoprestra In Mia Vece E Ho Già In Mente Un Certo Allenato Ruccio Semplicemente Incantevole Che E Beh Che Direi Forse Non è Andato Come Speravi Invece E Quello Che Volevo Volevo La Medaglia E Non Volevo Fare Capoprestra Tipo Folletto Oh Medaglia Ma La Medaglia Folletto Non Te la Toglio Nessuno Ok E Io Già So Chi È Il Successore Perché Me Lo Ricordo Benissimo Però Non Voglio Fare Spoiler Perché Credo Che Lo Vi Vi Bacio Adesso Che Fa 40 Ok E Anche Un Regalo Della Tua Partecipazione Una divisa Tutta Rosa Vedere Come Ti Sarà Bene Sembra Un Bon Bon Come Biscotti I Bon Bon Non È Giusto Spegnere Il Inflettore Su Qualcuno Solo Perché Avanti Con Gli Anni Ma È Anche Vero Che I Veterani Devono Imparare A Restare Dietro Alle Quitte Cedendo Il Palco Ai Giovani Si È Andato Così Al Genio Alla Signorina Poppi Signorina Perché Non Signora Che Ti Ha Regalato Una MT Bene La Passiva Tappa Sarà Cinchester Cinchester Ma Cinchester Io Lo Senti La Senti Subballalla Va beh che siamo tutti e due in inghilterra tutti i giochi però ok e adesso ci sarà poppi si volevo dire beat però Ho Invece c'è poppi Zicca da random Sto andando a knuckleberg ti va di accompagnarmi di ritornarci comunque visto che è lì che ti trova il tuo prossimo capo palestra Che senso Dobbiamo già affrontare la palestra tipo Drago Con piacere Su andiamo allora Non dovevamo fare la palestra tipo Ghiaccio Invece già dobbiamo affrontare questo Ecco ti è arrivato Eccoci arrivati a knuckleberg Uff Polverosa come sempre Immagino però che alcuni poco si troverò bene in avventi simili Questo anche io Ma io non dovevo affrontare Ma dovevo andare dall'altra parte Di solito la palestra tipo drag è l'ultima No Non dovevamo andare qui Fare la palestra Vedete che c'è qui una palestra Poi fare questa palestra Spikeville E ritornare a knuckleberg E poi possiamo andare alla liga Vedete che c'è il campo qui Me lo direte che qui sotto nei commenti Nel prossimo episodio dobbiamo andare a knuckleberg Dobbiamo fare la palestra di knuckleberg O dobbiamo fare la palestra di tipo ghiaccio O buio Che sia Se questo video vi sia piaciuto Mettete like Condividetelo Accedete alla campanellina Per non perdere altri video Bella Ciao Grazie a tutti.